sono mai gianni presidente pro tempore del consorzio colonnelli di mareson ci troviamo in località palafair del comune della valle di zoldo abbiamo avuto il contributo per per fare una strada nuova che collega due comuni zoldo ex zoldo alto val di zoldo e col comune di alleghe questa strada l'abbiamo proposta perché abbiamo una convinzione che sia una strada a livello turistico molto importante e allo stesso tempo chiaramente per poter fruttare il bosco e i pascoli che ci sono lateralmente di questa strada il psr con questo contributo ci ha permesso di poter realizzare questa strada che senza contributo chiaramente non saremmo riusciti a sostenere con queste strade possiamo arrivare a fare dei a sfruttare il territorio a mantenere e tenerlo in ordine si spera che con la strada e con tutto il contorno di poter portare anche a livello fra quando ci saranno le olimpiadi quando ci saranno i mondiali di poter portare qua anche qualche qualche allenamento qualche squadra per per fare gli allenamenti l'area qua è un paradiso per chi vuole camminare per chi vuole andare a sciare per chi vuole andare a funghi e anche sulla strada finanziata dal psr ci possono andare tranquillamente anche con le carrozzine bambini signore famiglie se si vuole che la gente rimanga in montagna bisogna investire perché abbiamo ci sa benissimo che la montagna si sta spopolando e se manca la gente le infrastrutture chiaramente non possono solo col turismo non possono esistere deve rimanere la gente qui per poter vivere e di conseguenza per poter vivere deve avere le sue agevolazioni deve avere i suoi impianti a